sta per iniziare l'episodio 3 bene per me l'episodio 1 episodio 3 da sopravvissuto allora vediamo un po come funziona stavolta io non metto cassette perché praticamente muoio sempre ogni volta con la cassetta quindi non metto cassetta che c'è una marrone ne ho tre di marrone e beh quant'è che la madonna di trap di trapi cos'è su qua verde non ovviamente fortemente si si no è la bezza cosa guarda che nebbiolina sta qua poi spero tanto morirò per primo acqua devo dire che è una bella nebbia normale sta nebbiolina e devo dire che era già in zona mia ha suonato quindi campanaro io faccio al generatore io andriano mandriano non so che minchia sia però mandriale con la motosega a quello che fai solo fa manzo con la motosega e mi sta seguendo a me allora speriamo che non vieni qua ok sono a metà generatore fanculo l'avo quasi in culato c'è un tizio una ragazza qua una signora ma se che sanno poterò il gancio eh lo so cavo ma ma in culato salve signorina fanculo esatto avete fatto manzo esatto giornata bruttina non è la e la la dentro la baracca non c'è il sotterraneo non ha la morsa e mi sto per liberare e non è sul solterraneo non mi venite a curare adesso non mi venite a curare no ma il sotterraneo non è dalla baracca no è nella casa cala cala apri la casa eh sì adesso arriverà a rompere un po' di più mi stanno curando intanto mi stanno mi stanno cosa ho trovato una torcia com'è che si usa? eh col sotterraneo con il sotterraneo cos'è che serve? per accecare quando ributti il bancale però dura poco se non ha addon vediamo se qua di nuovo non riesce a portarmi da nessuna parte e se tu se ha tipo in braccio se ributti il braccio c'è un braccio glielo punti sugli occhi ehm nooo dai riesce a portarmi giù di poco è la fine ho giocato male io pensavo di fregarlo di nuovo pensavo di fregarlo ora è durissima sta venendo tipo giù credo è qualcuno vicino si c'ho uno a fianco a me che aspetta di staccarmi nel momento io devo essere un generatore e anch'io mi sa che ha l'ango 20 il killer comunque lì c'è? dico ma non so allora ok ti ha liberato si 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 ma ha lasciato ma ha lasciato ora devo riuscire a correre via tantissimo ok qua c'ho un bancale e mi curo ok qua c'ho un bancale e mi curo al momento sono a posto mi metto a fare una cosina e ora devo andare a aiutare io e lei eeeh du te du te rod mentre voi vi fate i cazzi vostri col killer eh non è tanto bello farci qui eh ma io sto cercando bovino merda ti ho visto o cazzo anch'io forse no ma è dentro la casa eh si si io devo cercare di farina non sapevo nemmeno dove fosse la casa è quello il problema ora l'ho vista e c'entra la mappa di solito eh si si l'ho vista e mi sa che ho visto anche il tipo dentro oh che due coglio tutta la partita che stiamo siamo in tre siamo in quattro merda pancare va dritto lui in pratica quindi se te vai stort è più difficile eh ma è difficile mi può anche curvare lui no si si era per spiegare gli amati eh ma mi sa che l'ho fregato bravo ok ora è qua da me me lo succhi sei te cava io sto camminando ok c'era una uguale a te allora in una struttura di mattoni sì ma ce n'è c'è un altro uguale a me vediamo un po' di trovare un generatore qua stordito ok mi faccio ricaricare lo spiego fatto generatore bravo sonno eravamo in due io sono dato fatto possa praticamente ho trovato un altro di generatore bene 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 sono in un angolo della mappa praticamente due a destra da casa e non è vero ok fa acceso la motosegana fa qualche altra parte penso che viene da me se hai fatto esplode è probabile perchè come c'è dopo che l'ho sforgito cinque volte e allora ne sa portare via io vado un attimo nel sotterraneo per vedere se trovo io mi metto dietro il muretto ah ma c'è chi è questa che la sta facendo sei te salmo arriva 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 è quello che mi ha scoppiato ah no beh ha girato ha girato io tutta la parete che mi sto facendo inseguire ragazzi sono da te salmo eh ma ha abbandonato eh sta venendo qua si è qua e qua e qua ora se riuscissi a fare un po' di generatore io non piango ragazzi qua c'è l'uscita perchè io è tutta la partita che è veramente ma l'uscita è sta sono qua a tirare bancali VOLERE questo qua si 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 appresta molto al farsi stordire eh meglio è che i bancali l'ho quasi finiti quindi non puntate su quello Bartolini sarebbe terrorista merda finalmente è un momento di relax dopo 5 minuti di inferno no chi è sei te Marco o no no sei te si poi ce n'abbiamo uno dietro di noi e dall'altro l'angolo opposto c'era quella che sta qua eh si si sente un po' pianino eh eh mi è caduto il micro se lo metto se lo metto eh dall'angolo opposto c'è quello del salto eh ma guarda se siamo tutti e tre qua vabbè giusto vabbè appena lo prende ci andrà perchè quello la anche mi ha aiutato tanto io ci vado è giusto aiutare i colleghi si se fanno qualcosa cazzo ah l'ha messo giù è meglio che andiamo subito perchè lui l'ha l'ha ancora appeso non l'ha ancora appeso non mi ha ancora appeso neanche a me poi andiamo dritti abbiamo un'uscita qua che l'apro subito con lo scatto e l'altra dietro quindi veloci dai ragazzi cosa devo fare? andiamo a liberare ok allora vado verso di lui io non posso correre cala perchè ho lo sprint vabbè usalo tanto poi lo ricarichi eh si ma si lo ricarichi fidati usalo aspetta 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 io non ho già stati due eh nella casa è nella casa eh magari lo camper ah può darsi eh entriamo anche da tre posti diversi lo inculiamo aspetta salmo aspetta posso dall'altra parte ci sono info? io sto aprendo anche quello qua dietro la casa liberato io sono bene uscite da qua sono dentro la casa qua dietro la casa venite qua dietro la casa dai che ha zappato me ti vedo ti vedo qua dietro la casa aperto eh l'ho ripreso era già a metà merda vabbè ora venite che usciamo usciamo? eh mi sa che era già oltre la metà lui ditemi voi io sono dalla paraca io sono dalla baraca sto facendo un balletto vittorio lo sta portando fuori lo sta portando fuori si ma era già a metà lui si ma lo sta portando fuori lui si libererà ma dov'è che avete aperto? ok visto 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 dietro la casa dietro la baracca non la casa? si aspetta che... no no dietro la casa proprio quella qua dove siete liberata ma perchè la stai curando? adesso qua è contento è perchè ha capito che non ce la fa si è stati bravi è una casa battuto i ganci vuoi una mano? dagli un bacino dai guarda sullo salmo che ora muore ma va sono qua dall'uscita io ok bene arrivederci grazie ma si vede che probabilmente noi eravamo di un altro rank e il killer no esattamente il massimo eh killer si si vedeva infatti non infierisco ma anche i generatori li facevi tanto velocemente era il 15 ah si? bestia aveva agitazione, sussurri, insidioso al 3 e forze brutale al 3 ok